Buona visione! E come li troviamo? Posso darti indicazioni generiche. Ti consiglio di cercare segni di malcontento nei dintorni. Forse potrai trovare degli abitanti che ti mostreranno la giusta direzione. Il mio contatto continuerà a procurarsi dei nomi. Queste informazioni le hai avute da una guardia cittadina? Sì. Come fai a saperlo? Intuizione. Grazie. Claudia, Bartolomeo e la Volpe ti aspettano dentro. Non capisco che tu abbia fatto. Virtù, Machiavelli. Virtù? Cosa avete scoperto? Il bastardo di Cesare si trova a Castel Sant'Angelo, con il Papa. Secondo le mie spie, la mela è stata affidata a qualcuno perché la studi. Sto ancora cercando di capire di chi si tratti. Caterina sarà trasferita nella prigione del castello la settimana prossima. Bene. E il castello sia, dunque. Senza Cesare e Rodrigo, Roma si riprenderà in fretta. Li ucciderò soltanto se se ne presenterà l'occasione. Non ripetere l'errore della cripta. Devi ucciderli. Subito. Concordo con Machiavelli, Ezio. Non si può aspettare. Bartolomeo ha ragione. Devono pagare per la morte di Mario. Non temete. Morramelo. Avete la mia parola. Serezio, io rappresento l'unione delle forze di Bartolomeo d'Alviano, Claudia Auditore e La Volpe. Grazie ai miei associati sparsi per la città, potrete investire il vostro denaro nelle attività che desiderate. Avrete notato dei cartelli affissi per tutta Roma che consentono di acquistare edifici. Le pigioni dei nuovi inquilini vengono depositate presso i contabili, come pure i profitti aggiuntivi per le ristrutturazioni. I contabili si possono trovare in tutta la città. Molto bene. Molto bene.